Il Vescovo di Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, è stato confermato presidente della Conferenza Episcopale dell'Umbria per il quinquennio 2022-2027. Lo ha deciso la CEU, Conferenza Episcopale Umbra, nella riunione autunnale che si è svolta da Sisi presso il Pontificio Seminario Umbro Pio XI. In questa occasione sono stati rinnovati gli incarichi dell'Ufficio di Presidenza. Vicepresidente e segretario della Conferenza Episcopale, è detto in un suo comunicato, sono stati eletti Monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia Città della Pieve, e Monsignor Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni Narni Amelia, che subentrano a Monsignor Domenico Sorrentino e Monsignor Marco Salvi. A questi ultimi due va il sentito ringraziamento dei confratelli nell'Episcopato per aver svolto il loro mandato con generosità e spirito di servizio, sottolinea la CEU, accogliendo la proposta dell'Assemblea Ecclesiale regionale celebrata a Foligno lo scorso maggio, che richiedeva di rivedere la composizione e il numero delle commissioni regionali della conferenza. I vescovi ne hanno definite sei, evangelizzazione affidata a Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi Gualdo Tadino Nocera Umbra e Foligno, laici a Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Città di Castello e Gubbio, clero e vita consacrata affidata a Monsignor Gualtiero Sigismundi, vescovo di Orvieto Toddi, carità e salute a Monsignor Francesco Antonio Soddu, cultura e comunicazione affidata a Monsignor Ivan Maffes, giuridico-amministrativa a Monsignor Renato Boccardo.